Sempre di donna e droga, questa è quella che più confonde l'intellettuale, non si capisce bene di cosa fare di più tra i due argomenti. Allora voi fate un po' voi, io ho i tre canti, immaginatevi o una donna o un uomo, insomma, come no, la nostra gente, lo vengono. Alcune non una drogata, se ci dice fanno. Grazie. 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 Grazie.